1, 2, 3, 4 Che cosa puoi fare se no che cosa? Puoi prenotare tutta la tua vacanza Senza uscire manco dalla tua stanza Fai tutto che vuoi nelle tue quattro mura Fai tutto scrivendo solo sulla tassatura Scriviti un blog o visita il forum interessante Scrivici quello che ti interessa entusiasmante Discuti dei vipo della politica Discutiti una cosa brutta o mitica M-E-R-C-H-A-N-T-I-W-S-M-O-I-T-I-I Il sito migliore, ascolta e al sì Lo sappiamo che ti piace, sì 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 Whatever you're looking for We got what you need Whatever you're looking for We've got it, we've got the free time We got your sweet home We keep you up to date And we got your diary Open a window and visit Mercantissimo A côté notre space Y'a aussi le site avec ce beat Et ce speed, speed, speed S'il te plaît, va aussi visiter Mercantissimo.com Bon, bon, alors si t'as intérêt à acheter une maison D'écrire un blog, acheter ou vendre quelque chose Ou regarder, faire un plan de vacances T'as de la chance T'agra t'asseoir devant ton clavier Tu t'assier devant ton PC Eh, 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 tu tapes les chiffres M-E-R-C-H-A-N-T-I-S-S-I-M-O